Sono almeno 47 i morti e 90 feriti gravi le vittime della potente esplosione avvenuta in un impianto che produce fertilizzanti chimici nell'est della Cina. La deflagrazione ha prodotto anche un sisma di magnitudo 2.2 secondo le autorità cinesi. L'incidente è avvenuto alle 14.50 ora locale di ieri, le 7.50 in Italia, nell'impianto Yangcheng di proprietà della Tianji Ai Chemical. Secondo l'agenzia di stampa cinese Xinua, 640 persone sono state ricoverate, molte sono in condizioni critiche. Le immagini diffuse mostrano fiamme altissime, una nuve denza e i feriti fuori dagli edifici pesantemente danneggiati.